Buonasera a tutti e bentrovati nella rubrica del Cinema Ritrovato. Questa sera voglio illustrarvi 5 buoni motivi per vedere o rivedere The Warriors, i guerrieri della notte di Walter Hill al cinema in versione restaurata in 4K. Primo motivo. Innanzitutto è un film che riesce a mettere d'accordo un po' tutti, tant'è vero che al suo interno vediamo elementi tipici del genere d'azione, del thriller, dei film drammatici, configurati all'interno di un clima quasi da far west, ma soprattutto è considerato un cult pop, quasi a stampo fumettistico, come per esempio per l'utilizzo di un montaggio alternato da antologia. Secondo motivo. È adatto anche per gli amanti del classico, tant'è vero che è una rielaborazione in chiave post-moderna dell'anabasi di Senofonte, dal quale riprende la ritirata dei 10.000 e il nome di Ciro il Giovane, dal quale poi prenderà appunto spunto Cyrus, uno dei protagonisti del nostro film. Quindi i warriors del nostro film dovranno compiere un'impresa analoga a quella dei 10.000, che si trovarono ad attraversare l'impero basandosi solo sulle proprie forze. Terzo motivo. È stato apprezzato anche dal critico Andrew Harris, il quale sostenga come il linguaggio delle gang sia volutamente criptico e il senso dello spazio è chiaramente magico. Quarto motivo. I costumi, soprattutto le divise dei nostri protagonisti, sono riproposizioni di configurazioni realmente esistenti, tanto è vero che per girare alcune scene di massa vennero scritturati molti membri di reali bande di strada. Quinto motivo. Il film risulta estremamente virtuoso, in quanto ambientato in una sola notte, e se non per alcune scene finali, ne fanno quindi da padrone le tenebre, creando nello spettatore la giusta inquietudine, ma soprattutto per rappresentare proprio l'oscurità di una generazione privata di sogni e speranze. Io vi aspetto dunque mercoledì 8 marzo alle ore 21 presso il Cinema Filo per assistere ad una fresca generazionale ancora incredibilmente attuale. Vi invito inoltre a iscrivervi ai nostri canali social, di attivare la campanella di YouTube e di seguire tutti gli altri contenuti e la Filovisione. Warriors, come to play with us! Vi aspetto al Cinema Filo mercoledì 8 marzo alle ore 21.